L'idea per questo film nasce dieci anni fa quando ho visto un reportage alla televisione e ho scoperto l'esistenza dell'isola della Gomera e di questa lingua fischiata. E da lì mi sono messo a documentarmi, a fare ricerche su questo mezzo di comunicazione e ho immaginato via via diverse storie cominciando a scrivere appunto sceneggiature che raffinavo fino a quando la sceneggiatura non ha preso forma quattro anni fa. La storia è la storia di un poliziotto che decide appunto di recarsi su quest'isola per imparare questa lingua e poter comunicare quindi con la sua amante perché sa di essere pedinato dalla polizia e ha bisogno di trovare un linguaggio criptato che nessun altro sia in grado di conoscere. Grazie a tutti, Torino Festival, sono felice di essere qui e spero che il pubblico sarà felice dopo la screire della mia film.